Nel secondo turno di ritorno della Italian Baseball League, Rimini sta a guardare e ora guarda tutti dall'alto in basso. L'Unipolsae Bologna comunque esce sorridente dal weekend, alla luce di una bella tripletta, ottenuta contro Padova e completata in una gara 3 sabato sera, nella quale gli emiliani sono riusciti a rimanere in partita nonostante un inizio difficile. Sì, sì, contro Canacci, un lanciatore fortissimo che è a Padova, ma la squadra sempre, fino alla fine, sempre tenta di fare il punto del parecchio, che tentiamo di vencere il ripreso 1-1, abbiamo rinvolto la partita, è pareggiato prima, dopo contro Calero abbiamo rinvolto la partita. Sì, bisogna dare atto a Canacci, ha fatto una super partita, loro avevano tutti e tre gli straniere a disposizione per questa gara, Pannerati ha fatto un ottimo lavoro, c'è tutti lì, Ricchi e Pisticoni hanno chiuso altrettanto bene. Il manager bolognese era preoccupato per la lunga sosta che ora attende la squadra, ma dopo questi successi può guardare con più ottimismo all'impatto che avrà l'All-Star Game sulla preparazione della sua squadra. Sì, ci spaventa meno perché comunque chiude con una tripletta, è una buona cosa, quando incominciamo mi aspetto di iniziare un campionato nuovo, però adesso prendiamoci queste tre vittorie. Bologna è una squadra decisamente in crescita, fa davvero da contraltare con la formazione un po' spaurita vista nelle settimane di inizio stagione. Sì, sì, abbiamo anche dei giocatori che siamo un po' infortunati, non siamo al 100%, stiamo mettendo una posta adesso a metà della stagione, però la testa è sempre lì. Abbiamo fatto l'aggiusto dell'andata, già conosciamo tutti le squadre, io credo che le squadre adesso sono al pieno, nel senso che siamo una squadra, giochiamo tutti insieme. Sensazioni opposte invece arrivano dal Padova, che ha subito la sesta sconfitta consecutiva, ne parliamo con Giuseppe Sciacca. Purtroppo sì, questa sconfitta è una sconfitta che fa male, anche perché avevamo preparato queste tre partite al meglio nel weekend passato, che eravamo fermi in riposo, sono tre sconfitte che fanno male, perché ora è Nettuno, mi pare che abbia vinto, quindi ora è sopra di noi e non possiamo più sbagliare. Mi dispiace perché purtroppo non sta funzionando niente, per il momento c'è, non gira, non siamo fortunati. Quando c'è stato che i lanciatori hanno lanciato bene non abbiamo battuto, quando abbiamo battuto e i lanciatori hanno fatto bene abbiamo fatto un paio di errori. Mi dispiace per tutti, soprattutto per lo staff tecnico, che loro, poverini, stanno provando tutto, tutto, tutto per cercare di riuscire da questo brutto momento. Questa è la sesta sconfitta consecutiva, non ci rimane altro che continuare a lavorare. Proprio negli scontri diretti contro la già citata Parma e con Nettuno si deciderà la stagione dei Veneti. Queste partite non le possiamo sbagliare, c'è Parma, poi c'è di nuovo la sosta, c'è San Marino, c'è Novara, dobbiamo arrivare a Nettuno in vantaggio, perché andare là e giocare tre partite in casa loro, che è la quarta che sta discutendo per il quarto posto dei playoff, è dura, quindi dobbiamo arrivare là in queste tre, sei, nove partite con più vittorie possibili, in modo da là poter giocare bene, se no abbiamo perso l'anno. La squadra della settimana comunque è l'Angel Service Nettuno, che con i due successi di misura nei confronti del San Marino, si qualifica decisamente come quarta incomoda e potrebbe davvero diventare una quarta scomoda da affrontare nei playoff. Quello sicuramente se lo sta meritando sul campo, abbiamo vinto due partite con noi, due con San Marino, noi contavamo vincere questo weekend per staccare il padua, noi abbiamo fatto un bel passo in avanti per il playoff, poi dopo le posizioni come verranno, verranno, ci penseremo più avanti, tanto se vuoi vincere lo scudetto devi vincere con due avversari forti. Grazie!